Ciao ragazzi, bentornati a Nerd Kitchen! Ciao ragazzi, bentornati a Nerd Kitchen! E che cazzo? Ce l'ho fatta? Finita la panna a montare la panna? Mettiamo prima la panna e piano piano ammoldaviamo anche la panna. Mettiamo la panna nella cittola grande. E' panna! Macaron! Durante questo passaggio, attenti a non smontare la panna. Passata un'ora, infondiamo il macaron per 10-12 minuti, fin quando si forme... Mi sono persa! Una carta da forno, carta forno, una carta da forno, gireremo la carta da forno ovviamente dal senso opposto, dal senso opposto. Ma porta miseria, porta miseria, porta miseria, porta miseria, adesso dobbiamo... Da capo! Volendo, al momento di informare, informare, informare di... Grazie a tutti!